Snap4 è uno spin-off dell'Università di Firenze che si è costituito all'interno del laboratorio di ISIT del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione per rispondere alle esigenze delle industrie e delle città. In particolare, partecipando a numerosi progetti di ricerca e innovazione, abbiamo avvertito queste esigenze in quanto le città e le industrie producono molti dati che sono generalmente isolati in applicativi verticali, quindi non dialogano fra loro, hanno formati e protocolli diversi. Abbiamo quindi realizzato un'infrastruttura tecnologica che è offerta completamente open source, che permette di aggregare dati disponibili su qualsiasi protocollo, in qualsiasi formato. Una volta che questi dati sono stati aggregati è possibile fare delle analitiche basate su machine learning e intelligenza artificiale per fare predizioni e correlazioni fra dati che normalmente non dialogherebbero fra loro. E quindi vengono poi offerti questi dati disponibili per i decisori politici o per l'utente finale all'interno di dashboard o di applicazioni mobili.